Grazie, questo è un nuovo video, un video vlog, prima che volo dalle scale Certo Scusate l'assenza di tre settimane Ma a parte la scuola C'ho tipo le serate da fare di ballo Quindi io sono sempre presente e quindi vado Fatti mia sorella, saluta Certo, molto presente Sei molto presente nei miei video C'è una debbia Voi ora mi chiedete perché io ho la borsa Cioè tipo ho vestito così no Io e mia sorella Sì Io e mia sorella Dal 16 novembre abbiamo iniziato palestra Per questo non riesco manco a fare i video Perché tutti i giorni siamo in palestra E i video riesco a farli magari soprattutto la sera Ora cerco di organizzarmi un po' Perché a febbraio comunque inizia anche lo stage E quindi il problema è quello Ora stiamo andando Tipo a prendere la cosa Lei dovevi cambiare dei soldi Dei voucher Ecco Poi andiamo al Gulliver A comprare una barretta da sport Così no Eh? Una barretta energetica che è come se È un pranzo Dai che vergogno Dai che ho le occhiaie Eh poi? Poi cosa? Ma c'ho il doppione Il doppione c'hai? C'hai il doppione? C'hai il doppione? C'ho un balenato Così mi sa che sono diventata nulla però E chi lo dice che lo sai? Eh? Chi è che lo dice che lo sai? Qua hanno messo le strisce pedonali Da qualche settimana credo Musetto No Ho fatto raramente mai un video vlog Boh no Non riesco a A fare un video Non sai di cosa mi Dai devi farmi una foto Ok è fatta Certo Noi ci stiamo facendo i selfie in un video Comunque Comunque Cosa Mi dispiace di più Del Sai di cosa mi dispiace di più Del perchè mi sono eliminata Mi sono eliminata dal canale Eh Perchè Ho tutto il mio video ricetto lì Ok Dovete sapere Che questo tipo di persona Che è questo Si è cancellata da youtube Per il semplice fatto Che non riusciva a fare video No non avevo tempo Non aveva manco voglia Eh no Non è che non avevo voglia Non avevo né tempo Né Non sapevo come sistemare la Ehm Come si dice Io facevo i video con l'altra fotocamera no E quindi non Adesso mi vedo il vlog Eh E quindi mi Non riuscivo Marti Eh Ai 100 iscritti Faremo O la postit challenge Oppure Tu mi tiri Un sacchio E Mi tiri l'acqua addosso Si Questo è freddo poi Allora un uovo scaduto Si Oppure consigliatemi voi Nei commenti Cosa Fare ai 100 iscritti E vi ringrazierò Perchè siamo solamente 92 iscritti Mi credo Grazie 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 Io la sto riprendendo Lei se ne va E a me mi lascia qua Allora Stasera Stasera Marti Allacciami 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 qua Fatto Stasera Oddio Stasera Non mangerò Perchè tipo Amore Qua vieni qui Vabbè C'è un cane che appena ci vede salta Troppo tenero E tipo Eh A pranzo Io ho mangiato Le uova con il prosciutto Tutto tagliato Però che Essendo che era poco Perchè ho mangiato insieme a lei Dopo mezz'ora Un'oretta Mi sono fatta il latte E ho mangiato quattro biscotti Ma il latte non è che era pieno Cioè Perchè comunque finisco la scuola alle due Quindi Tempo di arrivare a casa Si fanno due un quarto E la fame Si fa sempre più calda Ok E Comunque I miei capelli sono più chiari Cioè Sono una deficiente Si perchè poi vi spiego come ho fatto No No Quindi non hai fatto qualcosa che mi fa l'altro? Si Ehm Poi tipo dopo il latte Ehm Dopo un bel po' Tipo dieci minuti Così Ho mangiato tipo quei crackers Erano tre Tipo alla pizza Alla pizza Mi sembra Poi non ho toccato più niente Ho bevuto solo le pasta Infatti stasera non tocco niente Compro questa barretta Per lo sport Però C'era una mangio ora Ma Me la mangio Per ritornare a casa Perchè tipo Dovevamo Mangiare la pizza Sì 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 Dov'è? Sì 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 Non si vede Sì Eccola lì Certo Ehm Tipo Dobbiamo mangiare la pizza Solo che io Ecco Intelligente e furba Non la mangio Mi farò un po' di te dopo E guarderò grande fratello Cioè tipo Secondo me Vince Federica Perchè è l'unica ragazza rimasta Come diceva anche la mia compagna Però Cioè io questa ragazza la odiavo Però Ora io la amo tantissimo Cioè È favolosa Cioè Magari anche rispecchia Mè Nel senso Di carattere Poi se gli piaceva Alessandro È un problema suo Cioè Poi comunque Aspettate Cioè Cioè A me Io preferisco Un tessimo No Che sembra che c'è la cassa d'ana No Cioè tipo Vedete come viene Vabbè E Che A me piacciono A me Non è che non volevo che Manfredi E Kevin Andassero In finale Non mi piacevano Però Sinceramente Niente Vedremo come andrà La puntata E Che vinca il migliore Anche se Non voglio che Finisce Il grande fratello Perché Mi è dato un'emozione Quest'anno Tra piante Risate Guardando le live Del tutto Continuo Continuo Continuerò Cioè Spero anche il prossimo anno Faranno un grande fratello Non posso dire una cosa Volevo annunciarvi una cosa Ma non posso Vabbè No Anzi Ve la dico lo stesso No Boh Sono indecisa Marti Vabbè Non posso Ah Ciao Ho la mano che non me la sento più Cioè tipo ora siamo... Che andiamo? Noi in tutto... In palestra facciamo sempre un'ora, due ore Solo che non so se... Cioè tipo è da lunedì che non andiamo No Oddio Da... Venerdì credo Sì venerdì credo Perché sabato e domenica non andiamo mai Dai Marti di qualcosa Parla del tuo prossimo canale Eh? Parla del tuo prossimo canale Certo Ma che cosa dice? Io non mi devo fare il canale Il canale di Youtube se te lo farai No Sì Allora Io e Statipetta Avevamo pensato di Creare un canale Dove faremo Faremo Tutte le challenge Certo la gente mi guarda Vabbè dove faremo tutte le challenge Lì Perché nel mio video... Nel mio canale privato Non ha senso Marti Guardati Guardati Fammi mettere di qua La cop è chiusa Perché l'avevo spostata da un'altra parte Ti devo mettere la mano Ti devo mettere la mano Comunque la call Non andiamo Eh? Che cosa sta a fare io? Stasera guardiamo un grande fratello Quanto io già lo so Ma dico Ma a parte A parte questo So che loro già lo sanno Chi è il vincitore Hanno la Opzione dove vedono I voti Infatti quando arrivo a casa Io inizio a votare Perché si Io voto tra E fra Cioè Non so neanche come cacchio Ma che c'è una mano congelata Ho giunto la sembrane Federica Vassa Perché mi sono piaciute di più Io vado la porta Eh? No niente Stavo dicendo Che Noi Eh In palestra Non Non faremo tante cose Nooo Suderemo poi Questi cacchi di addominali Ci Ci tocca fare i squat Ci tocca fare i tagli delle gambe Noi Noi Quali L'apingale Noi Questa è venuta Noi Noi Sì Noi L'apingale Questa è venuta Questa è venuta Allora, vi stavo dicendo che la qualità del telefono in avanti, cioè in avanti, è il migliore Perché? Perché ho cambiato il telefono da nove... da... un mese Sì, però avevo un problema nel telefono nero, che è sempre Huawei P8 Lite L'avevo preso nero all'inizio, poi l'avevo preso bianco perché ci sono stati dei problemi Ed evitiamo di dirlo Ecco Quindi, sì, dopo una settimana... no, avevo preso il... non proprio il 2 novembre, ma il 4 mi sembra E tipo... era un martedì... un lunedì... sì, un lunedì... un martedì così e il mercoledì lo sono andata a cambiare perché sono stati dei problemi che... Manco una persona... che non so... lì... che venderebbe Quindi ora io non vedo l'ora di arrivare... in palestra... perché non ce la faccio più... credete che... oddio... Ora vi saluterò... anche sta tipa vi saluta... anche tu saluterai... ciao... la bocca non gliel'ha fatta nessuno... Non so, ma ti farlo per studio Non so, ma ti farlo per studio... Ha, 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 ha... Non si sia, tutto bene... Eeeh... niente... noi tra poco arriviamo... Vi mandiamo un bacione... Eeeh... a presto con un altro video, ciao... Ciao...